Buonasera a tutti, mi chiamo Franco, sono il proprietario della gelateria Ercole di Pizzo. Quest'anno sicuramente avremo un'estate migliore dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una sorpresa dopo il Covid. Non pensavamo che ci fosse tutte quelle persone, tutta quella gente, specialmente nel mese di agosto. E quest'anno mi sa che sarà la stessa cosa. Diciamo che quest'inverno non è stato brillante, anche perché tra il colore giallo e il colore arancione abbiamo sopravvissuto, ma sinceramente non c'è stato tanto. Ma sicuramente fino adesso stiamo lavoricchiando, ma arriverà agosto che sarà un agosto di fuoco. Quando riguarda la preparazione per affrontare questo periodo di lavoro, abbiamo avuto un po' di difficoltà di trovare un po' di personale. Ma ringraziamo a Dio, abbiamo trovato delle brave ragazze dove hanno quella voglia di lavorare e quella grinta proprio di affrontare questo tipo di lavoro. Noi siamo pronti ad affrontare questo periodo, visto l'anno scorso che eravamo impreparati. Quest'anno ci siamo effettivamente preparati per affrontare questo periodo, questi 20 giorni, che poi alla fine non sono altro che 20 giorni. Non è che siano tutto il mese di agosto. Inizia dai primi, verso il 108 agosto, fino alla fine d'agosto. E poi speriamo che nel mese di settembre, che è venuto a mancare già l'anno scorso, gli arrivi degli stranieri. Perché quello è il loro periodo, è il periodo di tranquillità dove loro vogliono questa tranquillità e serenità per fare le vacanze. E questi mesi tra settembre e ottobre sono i mesi di turismo straniero. Speriamo che si riaprano le frontiere e possiamo lavorare. Buonasera a tutti, sono Alessio Diorgi, figlio del proprietario, nonché quindi terza generazione futura del Bar Gelateria Ercole. E niente, con il discorso che faceva mio padre in merito al lavoro, comunque al turismo, le persone che cominciano a riapprezzare di nuovo la terra, diciamo l'Italia in generale. Perché vedo molte persone italiane, soprattutto nord e nordeste, che magari anziché mollare nelle zone croata e slovenia, sto preferendo la Calabria, ma per lo più tutta la costa degli dèi, per poter ammirare sia le bellezze che comunque poi degustare i nostri prodotti, come esempio magari il tartufo, comunque cipolla, pesce fresco e via dicendo. Penso che sia una meta molto ambita dai giovani, anche perché per chi è amante mai del sano divertimento, comunque anche solo del relax, come dicevo prima, spiagge bianche, costa a costa di mare lunghe 17-18 km, mare caraibico, quindi non c'è neanche bisogno di spostarsi e fare 7-8 ore di volo. Basta venire qua da noi e posso garantire proprio il totale relax. E anche poi un divertimento, una movita serale tra localini, seratine. E anche ora ultimamente stanno per concludi, sai me, ci sono stati i mondiali di kitesurf, perché è amante anche dello sport diciamo di mare, con un bello ventilato. E niente, non posso che invitarvi a venire a trovarci da noi e adesso ci sarà mio padre che vi mostrerà come è il procedimento finale del tartufo di pizzo. Vi lascio la parola a lui e io vado. Allora, diciamo che possiamo far vedere solamente la terza fase della preparazione del tartufo, perché nella prima fase andiamo sulla pastorizzazione delle creme, perché i tartufi abbassano dei lati, uovo e zucchero. Questi tre ingredienti vengono messi diciamo in un pastorizzatore e vengono portati a 90 gradi. Dopo questa fase diciamo, questo gioco viene messo in un mantecatore che sarebbe la seconda fase. E la terza fase è l'assemblaggio. Allora io adesso vi farò vedere, diciamo, con poco tempo come si assembla un tartufo. Allora io adesso sto usando questo conservatore per assemblare il tartufo. Una volta, diciamo, come mio padre per tanti anni, per più di 50 anni, lavorava solo con le mani, modellava il tartufo con il palmo della mano. Allora io vi faccio vedere adesso, poi ci metto il gelato al cioccolato. Gelato alla nocciola, dove inseriamo all'interno di questo gelato del cioccolato fondente, che è a base di cacao, acqua e zucchero. Diciamo che la caratteristica del tartufo è che questo cioccolato fondente, che vi ho fatto vedere, rimane fluido, diciamo, a basse temperature. Questo è il tartufo. Una volta viene assemblato, viene messo in questa carta vegetale, dove, dopo una certa quantità, vengono messe nell'abbattitore di temperatura e li portiamo a meno 24-25 gradi, dopodiché vengono conservate. Al momento del servizio, il tartufo viene scartato e passato in una copertura di cacao e zucchero. Diciamo che un gelato fa gola. Io dico sempre per, come si dice, per non drammatizzare che come calorie andiamo a calorie zero, quando non è vero nulla. Allora, questo è il tartufo. Questo faccio vedere sia come... Ecco, allora, questo è il tartufo. E faccio vedere come è presente, diciamo, al servizio di tavoli. Questo è il tartufo che viene servito ai tavoli. Ora ve lo faccio vedere uno, come si presenta all'interno del tartufo. Allora, questo è il tartufo, come avete visto, quando è stato assemblato. Io adesso lo devo presentare al tavolo. Probabilmente questo tartufo viene scartato, viene messo in questa copertura di cacao e zucchero che fa come simbolo della terra. Una volta passato in questa copertura, viene servito. Allora, adesso vi faccio vedere all'interno del tartufo come si presenta. Gli facciamo un letto di... Gli facciamo un cucchino. Di panna, così. Una scivola. E faccio... E questo è il tartufo di pizzo di ercole. Vi invito a venire ad assaggiarlo perché sicuramente ne vale la pena. La gente fa molti chilometri per venire ad assaggiare questo prodotto tipico pizzitano. O dire il napitino. O dire il napitino. O dire il napitino. O dire il napitino. Allora... Il ciò è ilกello mitico soleen.